ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sto conterrando il telefono quindi non cavolo eh si no niente è un mio amico qua che voleva che gli scaricassi un gioco ma ah, lezzo no mi sto mentre uscigliate le cuffie e torna il joystick aiuto non uccidere mea la tv in data mia quindi in casa mia regolini pezzo di troia non smirforgo ma fanculo e da dove si vabbè era il mio spawn quello tommo indietro dove 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 trova no niente ah c'ho la luce mia no e allora però non vedo niente assist non vedo c'ho il riflesso fottuto ragazzi lo so io ho fatto tutto io ho fatto tutto da rixos 2 con i riflessi no devo scendere ragazzi quando faccio c'è niente devo scendere bene oh 3 kg 3 kg bene no me l'hanno cioccolata cosa ho fatto non lo so ma me ne vado ai petto e l'ho presa ho il riflesso che mi rende spesso raga nooo non me ne frega un cazzo io gioco sempre con riflesso stiamo non stiamo neanche vincendo si invece quasi oh guarda le spalle nooo si non ci dico prima che si faccia vita speciale bene bene ottimi ottimi bottoli sparo che non vedo niente con riflesso è giacca sbarro che sono cieco io andate per vedere il gameplay di Rashid Ismaur che ho fatto purtroppo io sono sempre stato cesto me ne frega un cazzo di nulla questo è morto bene ok sto vincendo ma non è la vittoria gloriosa che io volevo vedere ragazzi aspetta cosa vince qua? vigono i bot no 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 abilità no no la tattica i bot ok non c'è un cazzo di nulla e se attraverso il fumogeno quasi ho sparato attraverso il fumogeno e ho ucciso qualcuno e ritene ah probabile ah no aspetta ho ucciso uno sono pari situazione d'emergenza devo camperare basta uccidere bottoli va va a fare il culo anche te va camperone di merda devo vincere devo vincere ma va che fate sbagliata eh si ho specificitato cazzo e volevi potrò noob mi dispiace eh eh li ho preso com'è che mi hai previsto? scrincitavi scrincitava scrincitava no il vostro il vostro ha suggerito il vostro gran talento mistarelle è una merda infame sta fermo botte infamino ho l'uscita eh mi hanno ucciso io non scrincita io gioco realmente porca troia ahahah fottiti fottiti te e tua famiglia intera noo vendetta aiuto chi spara a me io chi ho usato si ma 65 71 che cazzo ben dominato che è che gioco che gioco è il mio telefono può farci potere lo mani fare con cazzo nooo te lo meriti il mio cervello è uscito fuori tu non hai mai avuto un cervello non ho uscito niente non è vero è uscita aria qua c'è qualcuno ah c'era il tuo cadavere qui oh ma c'è qualcuno oh oh che macchina da soldi ecco eh vabbè qua le ho prese 78 no 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 tanta gente tratta tanta gente cattiva cavolo nooo qui c'è 84 83 inassettabile c'è solo gente cattiva qui oh oh te la meritavi te la meritavi più di qualsiasi altra cosa no io non mi merito un destino crudele come questo io merito la vittoria meriti tutte le sconfitte per 199 e questa è una brutta cosa com'è che sono entrato nel bus scusa dai stupidi bottoli sono entrato nel bus non so come non sai come no aspetta non tenevo conto che cazzo è cavolo 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 no come il 94 93 impossibile devo vincerla questa adesso camperò io troie vabbè camperare con l'arc come come camperare i cecchi nulla si si in merita in merita in merita in merita in merita vai così guardate come muore chris guardate come muore chris guardate guardate lui lì con l'arco pensare sei già morto fotiti dai guardate guardate a soddisfazione ragazzi ma che soddisfazione ma che soddisfazione non sapete chi poi l'abbiamo solo vinto di due certo ovviamente io ho fatto di due di due eh sì cioè io ho fatto 10 aspetta ma cos'è che l'ultimo bot il tuo ultimo che cazzo ho sbagliato tutto hai anche i bot migliori te guarda se non fosse per il mio secondo che ho fatto 22 i tuoi sono migliori se non fosse stato per che tu che camperavi che camperavi si 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 no 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 questa forza messa abbiamo vinto questa forza messa abbiamo vinto questa forza messa abbiamo vinto e se camperiamo vinciamo tutti mister L gay muta fuori da casa lìa sai cosa faccio per punizio no 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 ma che qua ho bisogno di un approccio non dovevi lasciare scusa questo qui è l'approccio perfetto ragazzi mitragliettatrice per mitragliettatrice mitragliettatrice cambiate i vocabolari mitraglietta qua per poter lasciare barra essere efficace a medio corta distanza fucile a cecchino per la lunga no 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 adesso su fallout la mia il mio coso migliore lo chiamo mitragliettatrice per così impari cazzo il dizionario di mister L ci mettiamo ma dai camperi male botta di merda cavolo camperavi in mezzo alla strada no stiamo perdendo è appena cominciato cosa ti aspetti ma è intollerabile è cominciata la registrazione si ah ok penso si si ok che l'alzheimer io sto andando in giro io sto esplorando ma che che bella dos che brutta doccia di merda veramente ne sembra su una doccia cosa c'è qua ah non è fallout è vero non posso prendere le robe prendo un passo lì prendo steamp noob noob comunismo dobbiamo costruire un muro we need to build a war ragazzi lo sapete quando era il motto di Hitler qual'era il motto di Hitler make Germany create again ah ah ridete ridete dai così coprite il silenzio di sto video no ma stiamo perdendo dov'è la mia mitragliettrice fam no dovevi lasciare te o sbaglio quella non è una mitragliettrice mi sto lasciando comunque sono in mezzo la strada come una gallina che cazzo ho fatto eh no che era e vabbè fanile fanile e passa di con mitragliettrice che fa pochi danni la mitragliettrice esatto nooo alle spalle fottete non si uccide le spalle merito la risuscita e la risuscitazione la risurrezione subito se muore alle spalle se muore alle spalle hai diritto a un risuscitamento annarè basta io ho finito con l'italiano divento inglese cavolo sopravvissuto ragazzi divento svedese bam volevi fare i giro e prendere mezzo dietro eh ma tu non poti veramente volevo scappare e basta scappi fai il giro e mi ritorni in faccia sei come i scheraffaggi sei dappertutto aspetta che non riesco a saltare eh perchè deve essere prima il jetpack si stanca devi farlo dove scappa sto qua vedo le orme ah eccolo la tu segui le orme in un gioco dove la tattica è utile come non si chiama no seguo le orme così li prendo alle spalle e li ammazzo come loro fanno con me se lo merita vabbè bravo no io non passo di la fottiti torna indietro fottiti devo finire il lavoro torna qua devo finire il lavoro cosa senti devo finire il lavoro che hai iniziato no torno di che si capito di no capito capito allo stesso punto ora esco ora esco vengo ufficinato alle spalle e beh è ovvio come fanno tutti così dovevi lasciare scusa infatti stavo mi sto muovendo stavo no prima cosa hai fatto ma lascio dove mi son fermato un attimo a prendere a prendere il camperaggio ecco cosa prende tua madre aspetta cosa non ho capito urla più forte che magari ti sentono direi c'è solo questo fratello testa di cazzo e non muore vabbè sta qua spara prechi di sale che aspetta che magari non morirò uccidendo lui bene attate che vuole carico la freccia eh bene ora la mitagliatrice ragazzi non si tratta io adesso io adesso la freccia suprema freccia della luce scocca che merda ah non ha morto ah non ha morto schifo non sapevo neanche carina non so non so che sta qua spara le frecce che merda è ok beh e beh si è vero sono finiti sono finiti 36 36 e basta più ma eravamo già a 100 che non c'è nessuno uno uno ah non eri tu non c'è nessuno uno ah non eri tu infatti mi ha detto ma perchè è così stavo stupido ah non è lui ah non è lui aveva la tua schiena identica eh infatti mi ha detto eh volevi ah non è morto ok botte botte insignificanti dove siete? eccolo qua no 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 torino oh invisibile nemico invisibile muori pam dov'è tu v'è nato mi sono mi sento strudito non trovo più niente ok niente niente oh muori 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 e muori ancora si ma sono morto in volo vabbè ok eh te lo meriti ma tu non meriti niente no ti ho strano ucciso tipo io che ti ho preso con l'arco prima pam quella lì a essere mia minna eh non mi ha fatto nulla vedo no ma è di qualità scadente bravo cattroia è nella mia camper position prima eh sì ci sono rimasti i segni vedo le mine no no si vede si vede che c'è il fosso il fosso il dp camperla l'hai fatto tu ahahah 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 se mi dici un giorno dove poi il fps dove poi trasformare il mio terreno e quindi e quindi minecraft e quindi camberi con la frecce si però io ho riflesso che ragazzi mi sta dando fastidio che voi e come sempre io ho tutto tutto ho giocato tutto tutti tutti da sempre dopo questo soprattutto al computer hai evocato hai evocato c'è vero che peccato cosa ho qua cos'ho ah non ce l'ha 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 morire si morirei come direi tu invece e spostatevi dai coglioni ah no lo sparo adesso muori cosa come hai fatto come ho fatto mi sta tirando schiaffi sul collo si mi ha tirando vogli schiaffi sul collo però stami recuperando lentamente no però ah state recuperando voi siete con me vedi 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 no ragazzi mi dispiace mi dispiace mi dispiace primordino è vero bastardo non gioco più questa roba ma dov'altro c'è vero scusa ah non l'ho trovato sto andando it's wrapping time dove sta arrivando a te eccolo di meritate la morte adesso noto guardate la mia visuale che gli avete visto la difficità di Chris ragazzi ma meglio di Chris mi hai sparato al proiettile era il meglio di Chris mi hai sparato da sola addosso ma che cazzo dici mi hai sparato al proiettile no perché no io giuro cazzo no ti sei tu che è impeccato e fottetemi entrambi gunker di merda scappo mi trovo il cerbero davanti torno indietro mi trovo lui davanti che cazzo siete grazie grazie gunker ma è stato ancora lui si mi ha portato il cerbero non lo vedete perché con lui ti fa schifo i gadget valgono più di un bot dovrebbe essere il contrario si va bene i nostri arre vale più di Chris si va bene tipo Mortal Kombat non ne vogliamo riparlare non facciamo più episodi perché sai che le prendi mentre qua mentre qua va bene dove cavolo ti nascondi e vabbè io non ti prevedo che cazzo leggo il futuro anche io non prevedo te allora perché ho vinto perchè sono stato più tattico di te ma se qua non ci vuol tattica tu c'hai un bricio e ci vuol cazzo ti stai dando la zappa sui piedi i testi di te il più mai dici che non serve la tattica pam e stavo ricaricando se tu ricarichi in mezzo alla strada e cioè insomma vado avanti senza proiettili eeeh almeno quella roba lì bisogna capire ma beeeh vaffanculo va si si stava andando beh si stava andando 91 75 ragazzi eeeh come 76 a 91 impossibile sopravvivere no 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 tu hai scrincitato oh pam mi vedevi da prima eri tu? eri tu? eri tu? eri tu che hai ucciso prima ma quando? adesso si eh allora non sapevo io che eri te pensavo fosse un botto ha detto bene ragazzi quindi avete le chi ha fatto chi ha fatto metà delle kill il cembero si ma neanche ma neanche ma neanche ma neanche ma neanche da quando l'hai evocato mi ha ucciso solo il cembero ma no guarda i miei botoli fieri guarda che ammazza in tuoi e quindi ammetti che i tuoi bot per programmati che ti fanno vincere i miei bot migliori di i tuoi io mi esercito di bot conquistare il mondo un giorno dovete vedere i video da 16 ma volete ho fatto aspetta 46 kill 3000 c'è qualcosa che non conta una volta ha fatto 20 ragazzi 20 e 00 si ma sei 46 kill dovesse avere 4600 punti c'è qualcosa che non va ah ah giusto il cerebero quindi non hai fatto tu la kill perchè non hai fatto il cerebero? vero perchè non sei stato in grado di fare 2 kill di fila senza morire senza camperare senza morire allora io io lì ho campionato pochissimo stavolta hai campionato abbastanza per i fatici evoli no andavo avanti e mi fermavo giusto giusto per ricaricare e guardarmi attorno un pass camper cambiavo sempre zona un passo camper e cambiavi postazione di camperaggio che è da una finestra all'altra merdaccia in ogni caso vento io sei la rovina delle fps vuoi fare mortal kombat? vuoi fare ultimate arena? mortal kombat e quake arena te lo concedo dai ti do la possibilità di recuperare su mortal kombat ok vai ragazzi ci si vede al prossimo video ora si ritorna con mortal kombat carica in ordine no prima quelli la che vuoi te ok allora caricali tu vai ok